Ciao a tutte, benvenute sul canale di Mondo Cartogadget. Oggi vi mostrerò le ultime arrivate in casa Simple Stories. Le due Carpe Diem A5 Mint Blossom e Color Wash. Partiamo subito con la Mint Blossom. Eccola qui. Ragazze, è bellissima. Lo so che lo dico quasi sempre di tutti i prodotti che mi arrivano, ma qui veramente ci siamo superati. Simple Stories è uno dei miei marchi preferiti. Forse il mio marchio preferito. Parlando di grafica, qualità dei materiali e anche serietà dell'azienda. Questa Mint, forse con la luce si vede abbastanza bene. È una menta molto molto chiaro. E internamente c'è questo rosa bellissimo che alla luce risulta un pochino più scuro. Vedo in camera resta un po' più corallo. Dal vivo è più chiaro. Bellissimo. Abbiamo, come al solito, le nostre quattro taschine. Qui c'è il cartone, ma qui dietro abbiamo la taschina. Qui per il blocco, la taschina qui. Il loro bellissimo charm. Ragazzi, è stupenda. Morbida. Non hanno odori particolari. Le carte di Emma sono veramente delle agende favorose. Ed ecco qui. Adesso vi farò vedere la... Credo che questa sia la più desiderata del momento. Eccola qua. La Color Wash. Che tutti quanti mi dite che sono... Che sembrano i macarons. I biscotti, quelli francesi. Ma in realtà sono delle pennellate di colore. Vediamola eternamente. Questo verde bellissimo. Anche qui abbiamo le solite quattro taschine. Taschina qui. 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 Ah, di là non vi ho fatto vedere il pellupo, ma c'è al solito. E sempre il charm. Anche qui. Bella, morbida e profumata. Poi vi faccio vedere anche la piccolina. Allora, da qualche tempo a questa parte hanno capito che spedire le agende complete di refill con i refill già inserito negli anelli era deleterio. E quindi, insomma, l'hanno capito, si sono fatti i furbi e quindi adesso lo mandano blisterato a parte. Questa, ragazza, è un gioiellino. Non lo so, credo che sia al momento l'agenda più bella che abbiano fatto. Veramente, veramente bellissima. Per chi ama rosa, come me. Questo è il refill che non ho nato, ma è stupendo. Già l'ho visto aperto dal vivo. E questa è un altro capolavoro. La personal... Io la chiamo, sì, mint vintage. Sì, eccola qua. Ragazzi, è stupenda. Le carpe dieme sono tutte quanto uguali internamente. Quattro tasche, tasca lunga, taschina per il block notice, tasca qui, bellupo. Veramente meravigliosa. E questo qui è il suo refill. Dei toni un po' più scuri, un po' più vintage e nostalgici. Poi vi faccio vedere questo travel. Questo non è stato molto apprezzato e capito. In foto, devo dire, la verità non rende. Perché è un nero vintage, ma se guardate dentro, è un nero che tende al viola. Ma ragazzi, l'ho già detto, meraviglioso. È meraviglioso. Internamente c'è un quaderno, una pagina un po' sporca. Eccolo qui. Sempre le quattro tasche, tasca qui. Ma è veramente, veramente bello. E poi il cream blossom. Eccolo. Io adoro questa fantasia, adoro questi toni di colore. Un capolavoro. Internamente bianco e menta. O guarda l'altro. Veramente bellissimo. Poi, se venite a trovarmi nel mio gruppo Facebook, a breve vi mostrerò tutte le foto delle nuove collezioni uscite. Della Losam, della Oh Baby, questa è pucciosissima. Bloom e Good Vibes. Spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto nel gruppo. Ciao! 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 Ciao!